ecco ciao giorgio ti saluto ciao anche a te vorrei introdurre qui una notizia che la stampa ha passato fatto sottogambe insomma fa finta di niente allora la commissione europea bruxelles praticamente sta facendo un golpe per far diventare legale gli ogm cioè quelle che sono diciamo così disegni artificiali che sappiamo benissimo stai attento la maggioranza io ti interrompo perché tu hai detto una cosa tantissimo però dobbiamo aggiungere la maggioranza degli italiani non sa che cosa sono gli ogm bene allora siccome non lo sa e siccome sicuramente non lo sanno anche gli amici che ascoltano dobbiamo dire che gli ogm sono dei brevetti meccanici industriali nulla hanno a che vedere con la vita giusto va bene ecco sono brevetti industriali prodotti dall'industria chimico farmaceutica con lo scopo di ricattare le popolazioni perché per lo più non producono semi esatto invitiamo i nostri amici dimmi c'è davvero che voglio addirittura proibire di fare l'orto in privato pensa poco a cosa vogliono fare questi bastardi allora no non è penso un po' allora anche lì dobbiamo dire delle cose in maniera molto chiara bene chi progetta il dominio assoluto dell'umanità va avanti per quella strada non è detto che loro abbiano sistematicamente inventato gli ogm per fare questo risultato ma nel momento in cui sono riusciti ad inventare gli ogm li utilizzano in questo scopo ricordiamoci bene che la ditta più importante quella che ha fatto una politica di strangolamento delle popolazioni attraverso gli ogm è una ditta che si chiama monsanto monsanto significa monte santo il monte santo è il monte sinai no mi sono sbagliato è il monte sion si ah cioè l'equivalente del sionismo e quindi quando il titolare che per nostra fortuna si è suicidato il titolare della monsanto che grazie a ringraziamo il gesù dei cristiani e il grandissimo dio priapo che gli hanno dato quella spentarella da una finestra di uno dei suoi grattaceni per fare il volo finale questo qui mise appunto che era un rabbino uno di quei terribili rabbini di new york questo qui aveva appunto in mente il dominio mondiale attraverso gli ogm questa è la ragione per cui la sua ditta si chiama monsanto i dipendenti della monsanto hanno fatto le peggio porcherie come racconta il il rappresentante dei contadini della della del canada hanno fatto le peggio porcherie sono arrivati fino a assassinare le persone e oggi dando di questo passo con l'uso della corruzione delle pressioni politiche e di tutto il resto vogliono ottenere il risultato che noi sappiamo nel momento in cui gli ogm domineranno sul pianeta non ci sarà non solo non ci sarà più vita ma non ci sarà più per la vita in generale perché non ci saranno più nemmeno le piante ma ci saranno perché ci saranno soltanto le monoculture di ogm posto che riescono a resistere ma non resterà più nemmeno la vita umana perché moriranno tutti ricordiamo i circa 150 mila contadini indiani che si sono citati dalla disperazione perché hanno iniziato perché su pressioni e lusinghe governative hanno iniziato a a piantare cosiddetti semi perché non sono nemmeno semi ogm e alla fine si sono trovati indebitati nei confronti del sionismo perché la monsanto significa sion sionismo dominio mondiale beh quello si chissà di chi è lo sappiamo ma infatti poi volevo aggiungere un'altra cosa ancora riguardo a questo e vorrei aggiungere che eh la notizia che ho ricevuto io eh c'è una tensione altissima eh che talmente non è ancora diciamo così eh eh o meglio meglio diciamo che è tenuta di basso profilo tenuta sotto per motivi diciamo così eh per non creare panico eccetera ma c'è una tensione altissima sul caso dell'Ucraina eh l'esercito russo si preparerebbe anche perché in Ucraina hanno assassinato un magistrato ucraino un giovane giudice sparandogli alle spalle e eh questo qui è un atto terroristico terribile questo magistrato aveva condannato alcuni di questi assassini pagati da Soros esatto ma questi ovviamente l'hanno assassinato sparandogli alle spalle esatto ma c'è questo a dire io vi auguro che il governo reagisca in maniera adeguata ma in effetti si parla che eh l'esercito russo stia programmando anche d'accordo con gli ucraini di un'invasione dell'Ucraina o quantomeno dell'Ucraina no no perché Putin ha capito il gioco evidente è palese ehm ehm la situazione comunque è quella di cerchiare la Russia quindi di mettere la Russia diciamo così su azioni di inferiorità rispetto a quello che la potenza è la Russia doveva attaccare prima doveva prevenire queste sono cose che si devono prevenire dopo usciera fuori un gran casino in effetti diciamo a Cremlino si sta studiando l'invasione ma non sul livello della Cecoslovacchia questa volta è tutta un'altra cosa eh sia ben chiaro e non solo questo ma c'è anche da dire che gli americani stanno costruendo gli ospedali nel sud da Tunisia e non si capisce bene questa è la fonte Aurora se non si capisce bene lo scopo per quale vogliono fare questo poi non solo stanno fomentando anche la rivoluzione nella Bosnia e ancora per minacciare sempre la Serbia cioè nel senso che si cerca di stabilizzare di destabilizzare quella regione ancora di più di quanto è già destabilizzata tenendo presente che la Serbia è come sempre stata la proiezione la longa manus del mondo russo perché la Serbia è strettamente legata e dal punto di vista raziale e dal punto di vista religioso con la Russia tant'è vero che la Russia è stata coinvolta nel primo conflitto mondiale grazie all'assassinio del eh del pretendente non pretendente dall'erede al trono eh dell'impero austro-ungarico eh un assassino che operava proprio eh in Serbia era un serbo chi? va bene? Gavrilo Princip Gavrilo Princip però mi sembra che sia parte anche eh che faccia parte questo Gavrilo Princip una situazione va bene va bene la situazione diciamo di stampo la mano nera la mano nera va bene ma adesso quello sì l'attacco è avvenuto lì perché era lì l'epicentro e perché era quello che doveva determinare una fondamentale provocazione esatto diciamolo pure che l'impero c'è cascato perché l'impero non ci doveva cascare e allora le cose sarebbero rimaste come erano prima vorrei dire due due una notizia ultima incredibile che è apparsa anche su Facebook quindi riguardo ai nostri due Marò tenuti ancora prigionieri in India e quindi allora cioè che il capo della diciamo così della comunità indiana in Italia lui avrebbe potuto far liberare i Marò da subito o già due anni fa soltanto che il governo italiano l'ha fermato poi l'ammiraglio Accame che è in pensione il quale ha fatto degli articoli che si leggono anche in rete veramente eccezionale sul caso e diciamo che l'ammiraglio Accame ex ex parlamentare oltretutto sì è stato e credo che lo sia tutt'oggi uno dei difensori istituzionali dei nostri militari sì sì dei nostri militari insensolato esatto ma lui l'ammiraglio Accame poi il capitano di fregata se non sbaglio esperto di balistica ed effiglieria il capitano appunto Diego Abbo che ha fatto una perizia che c'è anche su YouTube straordinaria sul caso di Marò a vedere sia lui che Abbo sia che l'ammiraglio sono entrati sotto diciamo il mirino dei servizi segreti insomma la faccenda di questi Marò tra Italia e India è veramente non sporca ma molto di peggio in sostanza ci sono degli interessi sotto ci sono degli interessi anche soprattutto stranieri che uno di quelle è quello di sabotare diciamo così di danneggiare film meccanica e questo è evidente perché è chiaro che lì il gas a cicova è un mercato avvertitissimo sì direi peggio direi peggio allora perché chiariamo anche queste cose non solo sabotare film meccanica ma creare una premessa per creare una situazione di conflittualità Italia India a ciò che l'India non importi più nulla dall'Italia che è ancora peggio non è soltanto la questione di film meccanica ecco beh sì perché qui è proprio per colpire l'Italia cioè qui è stato per colpire il nostro paese la nostra economia e di ridurci la situazione in cui ormai stiamo per esattamente cioè la povertà galoppa e purtroppo anche qui ormai abbiamo il giochino di Renzi di Letta ehm cioè addirittura adesso Renzi ce lo imporranno così senza neanche votare vedrai che sarà così più o meno sai così è così siamo veramente al ridicolo qui stiamo andando cioè una cosa un po' più grave è che la gente ehm non fa nulla ehm assente salvo la minoranza che magari protesta fa qualcosa ma siamo lontani dallo svegliare il popolo italiano siamo molto molto lontani da farlo quindi e non so se riusciremo a che cosa ne ricaveremo se non lo fanno i giovani ne pagheranno le conseguenze loro perché noi la nostra buona parte della nostra vita l'abbiamo già fatta guarda ti faccio vedere un titolo ti faccio vedere un titolo che è già di per sé indicativo la repubblica dei cittadini ombra ecco bello grande giorgio tu hai sempre guarda sei una cosa incredibile ehm per me a casa tua i libri camminano cioè voglio dire ogni vergogna no ma è bello questa che tu documenti così bene il tutto perché così anzi mi auguro che tu incuriosisci per chi ci guarda approfondire le cose sono gli anni che sono già state fatte insomma devo fare una breve parentesi una breve parentesi dedicata al professore e allo storico Stefano Fabei che ha fatto dei lavori direi più che greci secondo me e un libro che consiglio anche è questo sulla una biografia del generale Niccolò Nicchiarelli il generale delle camicie nere eccolo qua no si mettere un po' più basso abbassa Pietro Macchione Pietro Macchione editore abbassa 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 ancora di più abbassa ecco il generale Stefano Fabrei il generale delle camicie nere va bene ecco qui praticamente è un passo da biografia di questo generale che è molto importante perché fa capire come allora si formarono certi uomini il clima in cui nacque però e come appunto arrivarono a certi a diciamo così a certi livelli con quale spirito cosa che oggi ce lo sogniamo ha detto francamente sì però dobbiamo aggiungere una cosa anche da questo punto di vista dobbiamo dire che al momento clou sempre con il massimo rispetto nei confronti della milizia perché la milizia si è comportata molto bene sempre sempre durante la guerra quelli della milizia erano sparsi in giro per il mondo perché ovviamente erano tutti al fronte moltissimi fascisti moltissimi 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 fascisti erano volontari erano al fronte però c'era ancora la milizia in Italia qui questa milizia fu presa in contropiede molto in contropiede diciamo che ci furono degli uomini non all'altezza della situazione o almeno appena di citarli perché dopo il 25 luglio avrebbero dovuto fare qualcos'altro questo ce lo dobbiamo ricordare poi per il resto la milizia ha continuato per la sua strada è diventata guardia nazionale repubblicana e ha fatto il suo iter però c'è stato un momento cardine in cui dobbiamo dire che la milizia è venuta meno nel senso che essendo la milizia la guardia della rivoluzione avrebbe dovuto intervenire dopo il 25 luglio avrebbe dovuto intervenire autonomamente e non l'ha fatta anche se era per colpa di Mussolini Mussolini stesso creò una situazione di di confusione con quella famosa lettera e quindi è praticamente ci fu un disorientamento però questi sono disorientamenti che non significano assolutamente nulla ma diciamo che devi agire autonomamente devi avere un minimo di autonomia si ma la confusione diciamo che nacque anche molto prima perché tu sai che la milizia giurò fedeltà al re questa è già è stata una causa però è un giuramento che poi è stato superato perché si si dopo quella crisi quella crisi di coscienza luce re portò a molte quibici 25 luglio e non solo 25 luglio anche 8 settembre si il dubbio è stato il vero equivoco del fascismo certo io vorrei dirti la mia opinione sì allora la mia opinione te la dico adesso perché mi è venuto in mente è un po' di tempo che ci stavo meditando e lo voglio dire allora il problema il problema vero qui di tutta la questione è quello che generalmente si dice colpo d'occhio no cos'è colpo d'occhio? colpo d'occhio è oppure anche il cosiddetto occhio medico che cos'è? è che uno addestrato a vedere le cose per quello che sono gli basta un po' d'occhio per rendersene conto giusto? sì ora allora l'autonomia come dire del colpo d'occhio che è la concentrazione di tutta una serie di idee pensate, elaborate, vissute, come vuoi è appunto quella di riuscire a capire delle cose che spesso urtano nei confronti anche di una certa logica di carattere dialettico no? allora io pensando e ripensando a un certo punto mi è venuto quest'idea il periodo allora il fascismo in se stesso è una certa cosa ad esempio qui c'è un ottimo testo e questo qui ci sono tra i personaggi più significativi tra gli storici italiani del noce del noce del noce del felice c'è paolo ungari paolo ungari e beh molto importante perché paolo ungari ha fatto una morte veramente molto ma molto strana il professor paolo ungari e abbiamo anche Abrate, Abrate, De Felice, Del Noce e Ungari. È morto strano comunque. Concentrato. In che senso è morto strano il professor Ungaro? E il professor Paolo Ungari. Sì. È morto, non si sa com'è morto. L'hanno trovato nella tromba di un ascensore. Ah. L'hanno trovato nella tromba di un ascensore. Non si sa ancora spiegare come si è potuto cadere nella tromba di un ascensore. Beh, diciamo che l'ha fatto cadere a questo punto. Ora, Paolo Ungari era una persona molto indipendente e molto libera, ancorché massone. Però, come ti dicevo, era una persona molto libera. Allora, ecco, questi dovrebbero essere i libri, anche perché sono agili, agilissimi. C'è la summa dei pensieri autonomi di autori di grandissimo rilievo tra De Felice e Del Noce. Qua c'è proprio il concentrato della loro idea, delle loro idee sull'argomento. Ma veniamo a noi. Detto questo, esiste il fascismo in quanto tale. Che tutto è forché il fascismo italiano. Cioè, il fascismo italiano, dice paradossalmente, no, è stata la verità storica. Tutto era forché il fascismo. Perché per fascismo si intende sempre un qualcosa che sia autonomo. Cioè, il fascismo è diventato tale soltanto durante la Repubblica Sociale. Sì, è vero. Ma prima no. Prima non lo era. Quando noi parliamo... Era a metà, era a metà, era pieno di compromessi. Ma nemmeno a metà. In Italia comandavano due potenze. Una era la massoneria, rappresentata dal sistema militare che faceva capo al re. Sì. Sistema militare che Mussolini non è mai riuscito a scardinare. Anche perché, ovviamente, Mussolini è dato al potere attraverso un compromesso con la monarchia e col sistema militare. D'accordo? Sì. E questo è fuori discussione. E poi l'altro potere era la Chiesa. Allora, i due poteri non erano Mussolini e il re. La diarchia non era Mussolini e il re. La diarchia erano i poteri reali. Era la Corte, cioè il Regno, che era quello che si era approfittato del processo unificatorio nazionale, fatto al 90% dai Mazzini, Garibaldi, dai Repubblicani e dal Partito d'Azione. E l'altro era la Chiesa. Mussolini non c'entrava niente. E' vero che è stato possibile un 25 luglio proprio perché le forze reali, colta l'occasione della guerra persa, che era stata persa artatamente per le beghe e per le mene del Vaticano, interessato a gestire il suo potere, mettendosi d'accordo con gli occidentali, cosa che poi ha fatto dopo, ma non l'ha fatto dopo per conseguenza di una guerra già avvenuta. L'ha fatto prima, lo ha determinato prima. E dall'altra parte, o l'ha determinato prima, anche contro moltissimi preti, perché è vero, ci sono stati in Italia, moltissimi preti fascisti, autenticamente e realmente fascisti. Beh, basta pensare a Sandro Giuliani, a... No, ma a moltissimi, erano veramente fascisti. A Tullio, beh, i più noti, usiamo a Tullio Calcagno e... Esattamente. ...e altri. Esattamente. Un che è molto recente, usiamo il parco della tagliamento, mi pare, no? Esattamente, ma erano veramente moltissimi. Braccialarghe, Braccialarghe, no? Vicciamo così. Antonio Braccialarghe. No, non si chiamava Braccialarghe. Lui si chiamava? Braccialarghe è stato il segretario di Randolfo Pacciargi. Giorgio Braccialarghe è stato il... Vabbè, tanto non ce lo ricordiamo. È molto di recente, un grande... Ma no, ma infatti sono molti fascisti, è vero? Allora, ricordiamoci, la vera diarchia in Italia era... era il re, cioè il potere reale, perché, attenzione, è vero che Mussolini quando ha chiamato le armi fascistiche è stato veramente un affatto di persone che hanno aderito, volontari che hanno aderito alla lotta della Repubblica Sociale, ma intendiamoci, chi erano? Erano per lo più persone, soprattutto giovani, animati da sano patriottismo e di volontà di rivelarsi all'infame tradimento. Ma non erano fascisti. E questa è una cosa importante. Ad esempio la decima massa, che era una quantità di persone notevoli, rappresentata da un'intera divisione, perché ne fecero una divisione, e poi la spolparono perché li mandarono anche in parte a costituire la divisione di Marina San Marco, la decima massa non credo che ci fosse un fascista lì, erano tutti ragazzi animati da spirito dell'avventura, dalla voglia di ribellarsi contro l'infame tradimento, ma non fedeli al fascismo. Erano semmai fedeli a Valerio Borghese. Sì, ma poi non dimentichiamo che il senso di RSI portava una stile sulla rivisa, con su scritto per l'onore d'Italia. Esattamente. Quindi questo è molto significativo, era la patria, prima di tutto era la patria, ma anche perché nella Repulsa italiana si riunirono molte anime, che infatti non erano fascisti. E' quello che volevo dire. Esatto. Ma non mi ha detto la verità, ma cosa che purtroppo non si dice, ma che comunque condivevano. E c'era anche una certa armonia, nonostante di contatto. No, no, e questa è la ragione. E tra l'altro questo patriotismo italiano li portò poi ad arrendersi a partigiani i quali dicevano dopo il 25 aprile e anche dopo il 2 maggio soprattutto, siamo tutti italiani, cosa vi arrendete a fare agli anglo-americani, lasciateci le armi a noi, eccetera, loro lasciamo le armi e quelli li ammazzavano. Ecco, questo è tra l'altro un'altra cosa importante. Ripeto, quindi, gli ufficiali, buona parte degli ufficiali italiani che avevano giurato al re, hanno mantenuto il loro giuramento. Quando Badoglio, cretino come era, dichiarò guerra alla Germania, tutti questi ufficiali che più che meno, molti erano ritornati alle proprie case, pochi, pochissimi si erano dati alla macchia, la maggior parte erano così, nulla facenti con le mani in tasca, molti si erano fatti internare in Germania, quando però ci fu questa dichiarazione, la dichiarazione impegnò questi militari che avevano fatto il giuramento al re. Questa è la differenza fondamentale. Quindi possiamo dire che le vere autorità sono state quelle autorità, quelle che avevano la possibilità di agire, le autorità cogenti in Italia sono state, ripeto, la monarchia e la chiesa che ovviamente agiva per via delle religioni, agiva per via dei parroci e dei escovi soprattutto. Quindi, ripeto, la vera diarchia è stata questa e la conseguenza l'abbiamo vista. Laddove in altri paesi dove il fascismo ha obiettivamente comandato, le cose non sono andate così. Devo dire che qui ci entriamo in quel problema, tu hai parlato della chiesa, che ho le sue parrocchie, le sue chiese che hanno un'influenza enorme, in effetti io sostengo, lo sto ripetendo da tanto tempo qua, che magari qualcuno si è annoiato, ma a me non frega niente, io lo devo dire, perché lo devo ricordare, anche per chi ci ascolta la prima volta, la chiesa cattolica, romana apostolica, attualmente, ma di questi tempi potrebbe fare moltissimo per cambiare questo sistema in mondo con cui lei comunque va a braccetto, va a braccetto parlando dell'altissimo clero, del cardinale a papa, invece non si vede nulla, perché la chiesa avrebbe in mano le chiavi per far cambiare la società d'Italia e farla esattamente, però non lo fa. Sadolina, domenica, i preti, quasi tutti, scusi che conosco io che meramente fanno qualcosa, ma gli altri non fanno niente, fanno lì a menarsi le solite parabole, commentando cose che realmente non hanno nulla a che fare con la realtà di oggi, ma in realtà non sono di oggi a chieri, e poi abbiamo il popolo purtroppo addormentato, come adesso, poi con il suo collo, poi la beffa più atroce, e che la chiesa, ormai le chiese, non sono più piene come una volta, i seminari quasi non esistono più. Esattamente. Vuol dire, dico io, tutto questo, eppure si insiste ancora, la sua solita cantilera ormai talmente sciocca, talmente assurda, e abbiamo poi questo risultato, cioè non è preso nulla, poi anche contro la perversione che c'è in giro, ormai, diciamolo ti arretondo, a Milano per i bambini hanno fatto un formulario in cui si dice genitori senza dire chi è la mamma e chi è il papà, e poi... E' una cosa da non credere, questi qui non hanno avuto il coraggio di ribellarsi, questo vedi ad esempio, dimostra esattamente la derivazione politica del fascismo dal massidianesimo. Esatto, beh, il massidianesimo è stato un po'... E non è mai piaciuto a nessuno dei poteri costituiti, eh? No, 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 assolutamente. Massini, ti immagini, era contro questa gente. Ma certamente che era contro, è logico, però diciamo, questa è l'altra dei fatti, poi qualcuno si lamenta che non... no, cioè, la grazia, noi non è che i vertici della chiesa sono marci. 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 Bravo. Poi c'è i parrochi di campagna e prete e frate, che veramente però il resto è marcio, cioè ciò che è la piramide che domina la chiesa, i vertici, insomma, e marcio. E' il caso di Giovanni Paolo I, cioè alias Papa Albino Luciani, lo dimostra ampiamente. Molto chiaro. No, ma fin quando i giornalisti fanno le zoccole, lo fanno adesso, e anche loro non hanno il coraggio di fare veramente una evoluzione. Esattamente. Mi ricordo, 22 mani pulite giornalisti che si apprendevano con claxi e lasciavano perdere gli altri, no, ma anche lì, no, ma anche lì, ma come si fa a pensare che claxi era solo lui e gli altri facevano niente, ma dai, ma è pazzesco, purtroppo in questo paese succede questo, è un paese drogato, c'è poco da fare, è drogato, è vero in fondo. E gli italiani sono dei grandissimi coglioni. No, ma poi vedi, anche Mussolini, lui diceva a te che Mussolini avrebbe dovuto fare, avrebbe dovuto fare un massacro, anche lui come in Russia, non face Stalin, ma non sarebbe stato più Mussolini. Vada non a casa, nel 48, Stalin disse Mussolini, nel 48, tre anni dopo la morte di Mussolini, mi disse, quando il genio politico del ventesimo secolo ha commesso il suo errore di non aver messo al muro i suoi nemici, cioè dice Stalin, non è quello che dice qualcuno, se qualcuno non ci crede, se qualcuno ci crede, se qualcuno ci crede, se qualcuno ci crede, va su internet e scrive, a favoressimi di Stalin, trova questa frase qui. Sì, è naturale, è naturale. Senti, io volevo completare quello che avevo detto, perché per i nostri amici un altro esempio devo portare, devo portare un altro esempio, e l'esempio è quello della Romania. Allora, se c'è stato un, se c'è un paese che è molto vicino anche come mentalità, è quello dei romeni. I romeni hanno avuto un'esperienza molto interessante di fascismo e è un'esperienza che ha trovato sempre contro, quindi loro hanno cercato in tutti i modi di sopravvivere e non ci sono riusciti. E ha avuto due manifestazioni di fascismo, uno è il fascismo popolare, autentico, vero, che è quello di Cesausescu, l'altro è il fascismo militarizzato, che era quello di Antonescu. Ambedue si sono trovati contro il potere massonico della monarchia, la quale monarchia ha preferito far fuori sia, e in maniera veramente vergognosa, sia il movimento dell'arcangelo Michele, sia il generale Antonescu. Per quale vantaggio poi non si capisce? Perché poi la monarchia ha dovuto chiudere lo stesso, dando il potere ai comunisti, quindi che cazzo hai fatto? Allora, Giorgio, non dimentichiamo che l'apporto dei rumeni sul fronte russo, escluso l'Italia, la Germania, escluso se vogliamo le SS Vallonia di Londres Grelle e qualche altro, è stato scarsissimo. Vabbè, ma noi cosa possiamo chiedere? La Romania è un piccolo paese completamente disarmato, era disarmato anche all'epoca, non era in condizione assolutamente di affrontare quella situazione. Noi abbiamo avuto della gente, e lo voglio ricordare, perché di recente mi è capitato tra le mani un libro che mi è piaciuto moltissimo, che era un libro che è stato tratto, dieci anni dopo la morte di Bedeschi, è stato tratto dai suoi appunti e dalle sue carte, dove Bedeschi dice che la gente non riuscirà mai a capire in quali condizioni italiani e soprattutto gli alpini sono riusciti a resistere in pochissimi, in condizioni infernali di temperatura, senza un carro armato, senza un cannone, sono riusciti a tenere a bada un esercito agguerritissimo, senza cedere di un passo, senza cedere di un passo. Tanto che quando è iniziata la ritirata, vedete questa situazione, c'è una cosa che più ci penso, diceva mentre stava preparando tutte le sue opere, faceva degli appunti che poi sono rimasti nelle sue carte, sono quelli che hanno trovato, quelli che sono andati a vedere se c'era qualcosa a tirare fuori, stanno uscendo dai libri, questo è uno di quelli, tra l'altro c'è anche un DVD in questo libro, è uscito mi pare nel 2007-2006. E il libro si intitola? Il libro si intitola, comunque Giulio Bedeschi, una cosa così, insomma si trova, l'editore Mursia e quindi si trova facilmente. Io che ero lì, perché ero lì come comandante, capitano medico, la per là in quel casino, non me ne sono accorto, ma ragionandoci dopo, queste sono cose impossibili, questi sono riusciti a resistere col fucile 91, parlava anche del fucile 91, loro, gli italiani avevano il 91 e che tirava massimo 7-8 colpi, laddove quegli altri avevano già fucili che ne tiravano un centinaio, quindi qual è il rapporto? Avrei una frase che mi disse mio zio molti anni fa, parlo del cognato di mia madre, il quale mi disse, lui è stato catturato a Siedelberrani insieme a 120.000 uomini sotto il comando di Pirla di Graziani. mio zio comunque mi disse, grandissimo Pirla, questo te lo posso confermare per esperienza diretta. perdendo di peggio, ma ciò stava, ti chiedo solo una cosa, che mio zio mi disse, se avessimo avuto da mangiare, non dico, ma la metà degli inglesi, e un po' di munizioni, ma la metà degli alleati fa, non avremmo assolutamente perso la guerra, lo disse proprio lui, mio zio, me lo disse più di una volta. All'Elemagne, i paracolusti della folgore si salvavano perché durante la notte facevano delle scorerie nelle file nemiche e portavano via, le roba da mangiare li portavano via. A proposito dell'Elemagne, sai che si casa tanto il generale Montgomery, Bernard Lowe Montgomery, cattura, il famoso cappotto, Giacone, Montgomery, si è avuto anche la moda, allora tu sai benissimo che il noto scrittore americano, l'uomo è il mare, che si chiama Ernest Hemingway, esatto, era una spia dell'OSS, lo sai no? Certo, è una spia, più che reclote, tutti questi qui mandavano informazioni, stavano lì, non è che erano delle spie patentate, sono due cose diverse. Ernest Hemingway commissi anche un crimine di guerra, uccidenti, un ufficiale tedesco disarmato, oltretutto. Allora, quando gli chiesero di Montgomery, Ernest Hemingway, così si disse, disse Montgomery, Mr. Fifteen against one, cioè signor 15 contro uno. Certo. C'è tutto tutto, no? È vero. È vero. No, io vi ho detto una cosa, se al posto di Montgomery c'era Rommel, no? C'era Rommel, sarebbe arrivato in tre giorni al Marocco, facendo l'incontrario, ma poi guarda, la frase bella di Rommel, che lo disse al generale, al canello Becchi, della Fulveri, disse, con questi uomini, faceva una noccia agli italiani in Roma, dice questi uomini, andrei in cima al monte, in cima al mondo, scusami, andrei in cima al mondo, cioè per dire... Ma si riferiva ai bersaglieri, però? Sì, sì, beh, ma anche quello della Fulveri, perché... Ma si riferiva a Bersaglieri. Prendo che ho fatto a Colonello Becchi, che era della Fulveri, quindi c'era una caserma a Livorno dedicata a Colonello. Certo, Colonello Becchi-Luserna. Esatto, Becchi-Luserna. Che morì in uno scontro a fuoco tra elementi della Nembo che volevano andare con Badoglio e elementi della Nembo che volevano andare con la Repubblica Sociale Italiana. Lui sei mesi e mezzo e ci ha lasciato le penne. Allora, comunque, di Becchi-Luserna ricordiamo quel bellissimo libro che è stato pubblicato con i disegni di Silavengo, come si chiama? Non mi viene il nome. Quello che ha scritto El Alamein, come si chiama? Amiglia Vacca. Ma che Amiglia Vacca? Chi ha scritto? Amiglia Vacca ha scritto El Alamein un libro, sì. Quello che ha scritto il libro più importante su El Alamein. Ah, aspetta. Ho capito che... Che è Conte di Silavengo, non mi viene il nome, basta. Sicuramente, un nome del genere, sì, sì, è vero, è vero. Notissimo, ha scritto moltissimi libri sulla guerra. Invece no, una posta di Mediavaccia, Renato Mediavaccia, è stato un ufficiale della Folgore. C'è un libro veramente interessantissimo che c'è stato lui in pochi spiani prima che morisse. Si intitola 24 ore ottobre, un'editore di Mussi. Sì. Guarda, allora, ti chiedo una cosa, il 12 settembre del 42, o giù di lì, o giù di metà settembre, ci fu un'incursione preparata accuratamente delle migliori forze d'elite britanniche nel suo fronte africano. Sì, ma furono rintuzzati dai marò della San Marco. Sì, le prese state ragione, tutti, addirittura morì anche un loro prestigioso comandante. Cioè, furono massacrati tutti. C'è una cosa incredibile. Furono rintuzzati dai marò della San Marco. Sì, ma così è la meno o peggio, eh, furono, cioè, senza tante, con modesti armamenti, cioè, addirittura, ebbero delle battoste, che fu una cosa incredibile. Loro c'è intentare un ossaggio, ma le se la videro brutte. Un mese dopo, un mese e mezzo dopo, ci fu l'Alemenni, ma sappiamo che l'Alemenni fu anche possibile, perché fu possibile l'Alemenni, perché tu sai benissimo che il convoglio di Duisburg, no? E a metà agosto fu bucato a picchio, che c'era tutto il rifornimento per i nostri in Africa. È naturale. Arrivando il rifornimento, rinforzi, chiaramente Montgomery ebbe vita facile che sui nostri. È naturale, è ovvio. Questo è il punto. L'operazione era molto chiara. Allora, abbiamo fatto un po' una descrizione di una situazione ed abbiamo cercato di dare delle spiegazioni razionali e logiche. E ricordiamocelo sempre, che il fascismo si è trovato troppo spesso contrastato proprio da quelle forze che poi i socialisti, i socialcomunisti, dicevano fossero le forze che avevano a loro volta promosso il fascismo. Cosa che non è assolutamente vera, è esattamente il contrario. No, guarda, il vero fascismo... Ti dico solo una cosa, a proposito queste confusioni, è alto in rete un'intervista, diciamo, radiofonica o telefonica sulla destra che c'era, dipendendo o meno, no? E c'è un intervista di un certo professor Robert Galli, il quale si è messo in testa per dire che Mussolini era una spia inglese, che paghava 100 sterline a settimana, che faceva lo spione e che poi accruiva un burattino di poteri forti e di qui e di là. Ma questo signore qua, dico io, ma mi domando. Prima di tutto, cioè, non ha capito un tubo di chi sarebbe Mussolini. Cioè, Mussolini no? Sapeva benissimo che per andare al potere doveva giocarse quei poteri forti. E lui si giocò al poteri forti. Sì, ma sono... Ma è ovviamente... Ma, come... Ma, questo qui è tutto questo, non è il burattino di niente, il Mussolini è stato tradito. Non burattino, è un'altra cosa, tradito da chi? Avremmo dovuto prendere le spalle dei poteri forti, invece non gliela apparate. È la fine, la fine cosa è da finire, cosa è da finire. Ma è natural, ma come avevo detto prima che... dice le puttana terra che pazzesco però ancora crede queste favole qui che poi ripetiamo mussolini non è stata la spia inglese di nessuno né inglese né francese di nessuno il momento in il popolo d'italia predicava l'interventismo controllo il peraltro ungarico faceva comodo gli inglesi e francesi e gli hanno passato qualche soldo ma è natura che soldi propagandare l'interventismo no perchè lo fa la spia ma poi figuriamo il ma poi poi gli finanziavano poi gli finanziavano gli finanziavano soltanto il giornale se non è quello è anche perché queste persone hanno talmente una mentalità così ridotta una testa così microbica che non riescono a concepire e anche lì è una questione non è tanto di colpo d'occhio ma di concepimento cioè o riesci a concepire certe cose o non riesci se per te fare politica significa trafficare come si fa oggi con questo sistema non potrai mai capire che c'è qualcuno altro che la politica voglia fare con altri fini no è evidente non lo capirai mai ma certo non lo capisci e quindi non elabori è lo stesso concetto che si può esprimere qui c'è un bel libro i grandi della fisica ed è veramente molto bello tra l'altro l'autore è di un Karl Friedrich von Weissecker un noto filosofo della scienza il quale giustamente fa una considerazione che a questo punto vale la pena di fare perché se no le cose non si capiscono allora lui dice che a un certo punto uno dei padri della fisica contemporanea si pose il problema di come affrontare la fisica quantistica quindi il problema a quel punto era con quale sistema logico affrontare la fisica quantistica che è bellissimo il concetto allora Bohr diceva noi dobbiamo utilizzare la la logica classica laddove altre dicevano no noi non possiamo utilizzare la logica classica intendendo per logica classica quella che ha sostenuto il pensiero umano per duemila anni no se non duemila e cinquecento anni quello che parta dalla filosofia parte da platone da aristotele da parmenide no questi dicevano no dobbiamo utilizzare un'altra logica invece lui diceva no noi dobbiamo utilizzare una logica classica cioè quella perché l'unica maniera per far capire con le nostre parole i concetti della fisica quantistica allora io questa cosa l'ho detto perché perché nel momento in cui tu ti poni nei confronti di qualcosa che si presenta come una innovazione il problema è quello della capacità di comunicare questa innovazione in maniera tale che questa venga capita e siccome l'elemento fondamentale è quello linguistico certo allora tu a quel punto devi utilizzare devi pensare anche che il vero problema non è tanto l'ideazione delle nuove formule e delle nuove concezioni del mondo ma è anche quello della logica che tu utilizzi per esprimere e per comunicare questi concetti non a caso i grandi studi della logica sono emersi proprio nel ventesimo secolo a fronte di una problematica che prima non esisteva finché la ricerca scientifica veniva vista nell'ottica che ne so galileiana la logica corrente era più che sufficiente per esprimere certi concetti e per esprimere il significato di certe misurazioni è oggi che nel momento in cui tu hai la coincidenza se l'abbiamo già detto altre volte tra tempo e spazio dove non si capisce bene più qual è lo spazio e qual è il tempo devi utilizzare un'altra logica o comunque devi scegliere devi discutere sulla logica che devi utilizzare è chiaro? se no non lo capisci ecco perché il comunista, il socialista l'intellettuale allineato che abbiamo avuto in Italia per una cinquantina d'anni dalla fine della guerra ad oggi che era educato sul fatto che il fascismo poteva essere solo espressione del tardo capitalismo queste cose qua non sarà mai in condizione di capire per quale ragione il fascismo di Mussolini è stato tradito dalle forze di destra il fascismo di Codreanu è stato combattuto fino all'ultimo giorno dal potere borghese economico della destra romena il fascismo greco sappiamo che fine ha fatto perché basta conoscere la storia degli esponenti di spicco del governo greco prima o durante il conflitto contro di noi che fine hanno fatto e chi gliel'ha fatta fare il fascismo spagnolo che era quello di José Antonio Primo de Rivera e Ramiro 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 Primo de Rivera che è stato sacrificato volutamente dal generale Franco non dimentichiamo anche che subito dopo la fine della guerra fu scatenata una fortissima repressione nei confronti del movimento sindacale del movimento sindacale spagnolo malgrado che questo movimento avesse fiancheggiato assieme ai carlisti la battaglia di Franco e dell'esercito spagnolo quindi questi sono degli esempi ma potrei dire degli altri Certo Giorgio ma bisogna dire un'altra cosa è importante ricordare magari alcuni nostri amici già lo sanno ma tu sai benissimo che José Antonio Primo de Rivera si poteva salvare dalla fucilazione e Franco non fece nullo per salvarlo no, lo fece fucilare infatti non solo le premesse perché fosse fucilante esatto ma ci fu un altro fatto importante l'ambassatore tedesco che era lì in Spagna mi pare un console si chiamava Von Block un nome del genere ebbe l'orda d'Italia di pagare addirittura il riscatto il riscatto vedevano i proprio, diciamo così, gli internazionalisti, no? quelli del, diciamo così, i repubblicani no, 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 vabbè ebbene, gli fu, eh, insomma, Franco fuci di tutto per farsi che questa trattativa è da Samonte esattamente fu fatto fucilare apposta ecco questo, e questo a dice lunga la storia a scoprire perché qui è la storia veramente molto interessante perché fa capire fa capire che a metà degli anni 30 si era già capito che se aveva uno scontro fra le forze nazionalsocialiste e fasciste contro quelle comuniste e le bracapitaliste perché allora si erano già delineati esattamente lo scontro e si preparavano i tedeschi si preparavano gli italiani un po' me, anzi non si preparavano però diciamo così iter fu il più previdente perché cercò a tutti i modi di aiutare appunto in Spagna eccetera tanto vero che il primo a convincere Franco ad entrare in guerra fu Hitler che poi purtroppo questo incontro che si svolse a confine nei perinei tra la Francia e la Spagna tu sai si concluse con un grande smacco per Hitler perché Hitler sentì vabbè ma il discorso lì era molto relativo a quando non eri in condizione di sostenere nulla avrei preferito andare al dentista a far vittare dei denti dal vivo che non gli incontrò né con lui sì vabbè questo è verissimo allora l'ultima cosa che volevo dire che va aggiunta il fascismo argentino che era costituito dal peronismo fu duramente e atrocemente combattuto dalla dittatura militare argentina che era quella che rappresentava il potere economico della borghesia argentina alleata con gli occidentali esattamente adesso questo scontro in Argentina c'è ancora anche se non è molto evidente ma c'è ancora questo scontro certo infatti l'Argentina te la parlano poche notizie perché la Kirchner è ancora lì infatti si parla poco dell'Argentina attualmente non è un caso non è un caso si parla poco certo è il silenzio che si fa sull'Argentina così come la si fa il silenzio lo si fa sulle Olimpiadi di Sochi sì ma è tutto fatto apposta anche se il silenzio sulle Olimpiadi di Sochi è insomma è un silenzio per un certo punto perché comunque le cose qualcuno vede si fa si vede ma certamente io ci sono convinto che dopo i giocchi olimpici cioè da fra un mese a questa parte che era Giorgio io mi aspetto delle cose gravi che possono succedere nell'Europa orientale e in modo particolare in Ucraina mi aspetto un aumento va bene me le aspetto anch'io sì me le aspetto anch'io vedremo dove vanno a finire beh vediamo certo che Putin qui adesso ha in mano una patata bollentissima e secondo me come mi ha detto una certa fonte che lui prepara le forze armate a tenersi pronto per l'evenienza di invadere l'Ucraina cioè proprio per creare un fatto compiuto di forza questo direi che poi potrebbe accadere potrebbe dare una una svolta epocale a certe cose in Europa non bisogna farlo per tempo prima che la Nato e l'Europa si mobilitino contro quindi deve essere un bliss ma certo io dico anche questo che ormai questo sistema occidentale libera capitalista che è fallito tutta la linea sta dando gli ultimi colpi di cosa tra l'altro ancora che si insiste questa notizia di ieri dalla fonte di Aurora ora che Obama sta ancora una volta forzato la solita lobby ripensando ancora di un intervento militare in Siria cioè penso un po' cioè no dico allora capisci che qui allora va beh questo è gioco degli scacchi eh sì sì beh questo è gioco degli scacchi ma provocazione provocazione perché poi in Siria sai benissimo che adesso il primo a pagare è la monarchia saudita è quello che ci aspettiamo con con grande ansia allora l'ultima cosa che volevo dire prima di chiudere questa nostra chiacchierata riguarda 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 quello che io ho a lungo sostenuto in relazione al personaggio Renzi ho più volte sostenuto che Renzi è una creatura di Mediaset allora attenzione io non dico che Renzi è una creatura di Berlusconi dico che è una creatura di Mediaset ci sono cose diverse sono assolutamente diverse l'intenzione è che Berlusconi e Renzi sono incontrati più spesso in questi giorni eh allora Berlusconi è un'altra in questo momento nella concezione che ho io e voglio leggere un paio di frasi in questo fondamentale libro sì la pubblicità politica in tv sì sì e che è veramente molto importante allora stai ben attento perché qui c'è scritto di tutto stai scritto di tutto mi sembra che sia fatto molto bene io ho detto ripeto Renzi è creatura di Mediaset sì non è uomo di Berlusconi e qui c'è la spiegazione l'introduzione del criterio maggioritario nelle consultazioni popolari del 1994 ha incrementato la connotazione spettacolare della telepolitica e quindi il dibattito a due è diventato anche nel nostro paese un genere televisivo consueto e capace di informare appassionandoli milioni di elettori ecco ecco come si delinea il quadro di una situazione gestita da Berlusconi nel proprio interesse ma attraverso quelle sue televisioni la situazione che si è evoluta d'ora in poi cresce in complessità i media rappresentano solo un momento cruciale di strategie di coinvolgimento dislocate in ogni ambito sociale poiché la prima novità principale di Silvio Berlusconi è proprio questa allargare a qualsiasi occasione e a qualsiasi discorso l'implicazione elettorale e la polemica politica vedi se non si delinea esattamente la figura del pagliaccio di turno l'importante ovunque ci si trovi è di riuscire a creare una scena sulla quale recitare una parte immediatamente persuasiva nei confronti del grande pubblico esattamente il successo elettorale interno al pd ottenuto da dal grande Pinocchio dal grande Pinocchio è proprio questo giorgio penso un attimo il napolitano che è costretto a parlare con Berlusconi che è stato lo sai che è condannato il napolitano che è costretto a parlare con Berlusconi che bufole che poi Renzi che sia un pupo basta sapere chi è suo consigliere si vabbè d'accordo ho un nome di cognome importante da una certa famiglia di loro signori allora insomma io vorrei trascendere il messimo pace da pupo allora io vorrei trascendere ho già detto più di una volta che il ragazzo fu selezionato a suo tempo fu chiamato in televisione a fare dei programmini di domande sceme perché doveva essere valutato sulla sua capacità di forare lo schermo quella è la questione risultato positivamente perché sicuramente Mike Buongiorno Ola De Filippi grandi esperti di facce televisive gli hanno detto sì no perché vedi caso gli esami gliel'hanno fatti loro certo cioè erano erano il clou la Filippi da De Filippi resta tutt'oggi l'esempio classico del clou no della valutazione da faccia televisiva delle persone no vedi caso gli hanno auti due ok e quindi questo è stato lanciato però qui io la questione la vedo nell'ottica del sistema cioè che lui abbia dei padrini è fuori discussione ma che è il sistema che porta avanti questi burattini è altrettanto vero quello che noi dobbiamo sottolineare è l'analisi del sistema che questo aureo libretto che poi è anche una tesi di laurea fa ma proseguiamo l'importante ovunque ci si trovi è di riuscire a creare una scena sulla quale recitare una parte immediatamente persuasiva nei confronti del grande pubblico se poi la si recita anche male come fece erroneamente Prodi no? che si è fatto sputtanare che si è fatto sputtanare che si è fatto sputtanare il nome mortadella e tutto il resto eccolo qui e dividenziando le ambizioni fiscali dimmi dimmi ma tu quando Prodi parla tu hai mai sentito attentamente Prodi parlare? è una testa di cazzo oltre a essere un delinquente no aspetta aspetta ma no dico ma per me si capisce solo lui cioè è certamente è certamente lo dice qui lui Prodi no poi è una faccia da prosciutto mortadella c'è una faccia da nulla però è natura è natura tanto è vero che lui ha cercato di di ovviare andando in bicicletta lo riprendevano che lui dice ma sei un ciclista capito è da dove noi abbiamo avuto dei grandi ciclisti anche lì più o meno in quella zona il mio concittadino il mio grande concittadino costretto in disparte per favorire l'americano allora evidenziando le ambizioni fiscali del proprio movimento si rischia anche di perdere il treno e questo qui sono considerazioni che ritengo estremamente validi un'altra considerazione sempre relative ai media è è questa da leggere sempre in questo aureo libretto allora ci sono un paio di considerazioni importanti dove dice le società industriali producono un sistema di politica da fabbrica gestita da manager il governo rappresentativo richiede politicanti professionalisti a tempo pieno e partiti in lotta tra loro con risultati prevedibili come diceva Marcuse già nel 1964 la società americana ed occidentale in genere viveva la chiusura del suo universo politico da tempo è riconosciuta una deriva oligarchica del sistema classico maggioritario bipolare gruppi economici ti ho capito gruppi economici militari o economico militari gestiscono oramai quasi tutte le fasi della politica e di tutti i suoi rappresentanti creando così una cesura sempre più incolmabile tra istituzioni e cittadini è vero un'analisi perfetta è proprio così è proprio così grande Giorgio bene Giorgio allora con questo chiudiamo di cui appunto la realtà dell'Italia di oggi col burattino presentato come fosse un uomo politico io francamente guarda lo devo dire perché in effetti lo dobbiamo dire il livello di immaturità politica di questo di questo popolo si dimostra proprio nel momento in cui l'apparenza della eh di una educazione moderna eh di un acculturamento eh che c'è si vedono libri si vede roba e le le conoscenze sono allargate questo popolo non è non è più il contadino di 60 70 anni fa che viveva ancora immerso in una cultura medievale e andava dal paroco per farsi dire cosa doveva pensare e che cosa doveva mangiare capito eh questo tuttavia il sistema lo sta dominando molto di più ecco che quindi questo libro lo ripeto la repubblica degli uomini ombra è un titolo che poi è un titolo ti dico subito di un libro di molto tempo fa perché il libro è stato eh è stato pubblicato da Garzanti nel 1991 questo qui capito? beh 23 anni fa eh appunto allora il controllo dei media ecco il controllo dei media è questo qui esattamente bene giorgio dobbiamo chiudere eh tra l'altro voglio aggiungere una breve nota di dovere di ufficio per il professor Fabelli il professor Fabelli il professor Fabelli ha scritto anche eh un libro su Carmelo Borchi Pisani eroe traditore poi ha scritto anche un altro sulla legione straniera di Mussolini e poi e poi l'operazione barbarossa e poi ha fatto anche un libro importantissimo eh sul sindacalismo fascismo di Terno cioè il fascismo d'acciaio Maceo Carloni e il sindacalismo e il sindacalismo a Terni dal 20 al 44 dall'assemble dello stesso autore Stefano Fabelli esattamente Carloni lo ricordo perché sono libri interessantissimi che approfondiscono belli argomenti della storia nostra recente bene Giorgio ti saluto con questo eh è stata una bella cittierata eh niente eh salutiamo sempre quello che fu a mie spalle eh no l'intero l'auditor priapus ecco eh e saluto tutti i nostri amici speriamo in bene e buona sovranità a tutti ciao a presto a presto a presto ciao